momento storico amici amici appassionati di uova è un momento storico poseremo l'uovo e lo terremo sotto controllo sulla nostra pagina facebook durante tutto il periodo di incubazione quindi preparatevi eh! Allora o è un t-rex o è un velociraptor o io non lo so comunque dovete trovargli il nome eccolo qua i blues brothers posano il primo uovo di dinosauro nella storia ma non va giù come non va giù galleggia meglio deve andare giù lascia andare giù fai entrare l'acqua sta soffocando non respira la mamma maxi sta accudendo il suo uovo ciccio respira ma vieni su ma come viene su deve essere immerso tutto c'è scritto che deve essere immerso tutto ma è troppo ciccione no